LUNEDÌ 6 APRILE LUNEDÌ 6 APRILE 22 contagiati su 1.557 tamponi processati, fermo il numero delle vittime che purtroppo è salito a 13 perché ieri mattina è morto un altro anziano dell'alloggio di Cerce Maggiore. Il Gemelli Molise dona un respiratore al Cardarelli, sarà utilizzato dal reparto di malattie intensive. Casa Calenda, la sindaca ha distribuito ramoscelli d'olivo e mascherine, poi l'appello di Toma che prima si rivolge a chi specula su questa emergenza, dice smettetela di farlo per raccimolare voti su quanto sta accadendo, poi dice ai molisani statemi vicino e restiamo uniti. L'infermiera Gea Positiva Isernia era in malattia da diversi giorni, a Campomarino invece è stato sorpreso un settantenne che da poggio imperiale era arrivato in Molise senza comprovate esigenze, per lui dunque la multa di 533 euro e a Capobasso ancora attestati di stima alla polizia il questore ringrazia, tre aziende hanno donato gel igienizzante agli operatori che hanno poi condiviso anche con il personale sanitario dell'ospedale Cardarelli. Il ricordo di quanto accadde poi 11 anni fa il terremoto dell'Aquila sotto le macerie morirono sette molisani ed era il 6 aprile. L'intervista all'operatrice sanitaria della madre Teresa di Cerce Maggiore Martina ha contratto il virus e lei dice ho messo la vita degli altri prima della mia. Ad Agnone invece sempre rimanendo in tema di case di riposo la residenza Tavola Osca resta senza os, l'ASREM interviene per risolvere il caso ma Florenzano parla di momento delicato e dunque si appella alla coesione. L'editoriale a firma di Pasquale Damiani parla di fake news da Zingaretti a Toma scrive basta con le bufale. Andiamo sullo sport con i lupi e dalmazzi che dice tornare appena possibile in campo per affermare la nostra supremazia. L'intervista che primo piano ha fatto al difensore del campo basso calcio poi le ipotesi si bigliano e bastano 40 giorni per completare i campionati. Eccellenza e promozione invece è un cammino da rivivere. Il messaggero imprese il decreto sulla liquidità oggi il provvedimento per finanziare le aziende. Garanzia al 100% per i prestiti fino ad 800 mila euro. I morti sono intanto 525, il numero più basso dal 19 marzo. L'Istituto Superiore della Sanità parla di una curva che scende, se continua affronteremo così la fase 2. La quota dello Stato però in merito al decreto sulle liquidità ci sono i vari approfondimenti di spalla. Così si rischia di favorire i soliti furbi, localismi, una stagione al tramonto. Stati Uniti la settimana più nera, la pandemia è fuori controllo e si parla di momento peggiore di quello vissuto l'11 settembre. Mascherine si allarga l'obbligo, le regioni vanno in ordine sparso, dunque si sono adeguate anche Toscana e Piemonte dopo l'annuncio fatto dalla Lombardia. Roma entro aprile a contagio zero, la mappa del Lazio parla d'Amato, però questo potrebbe accadere solo se a Pasqua restano tutti a casa. Intanto San Pietro deserta il Papa ai giovani, guardate ai veri eroi e non alla fama. Le sue parole sono queste, la Domenica delle Palme, parole che rimbombavano negli immensi spazi vuoti di San Pietro. Dal messaggero ci spostiamo sul Corriere della Sera, rallentano contagi e ricoveri, è il titolo di apertura. Decreto poi per le aziende, scontro su cassa depositi, patuanelli, prestiti in poco tempo. Febbre alta, Johnson in ospedale, rallentano dunque i contagi in Italia. In calo i ricoveri e i morti, però è soltanto un primo segnale. Gli esperti sono a questo punto cautamente optimisti, sembra iniziata la discesa ma non è tempo di allentare le misure. La Toscana pensa all'obbligo della mascherina. A Londra, Boris, lo vediamo in questo titolo, Boris Johnson ricoverato per esami, in questa foto è con la fidanzata incinta che è in isolamento. Sei giorni di rinvii, nessuno ha protetto Alzano e Nembro. L'inchiesta tra verbali e mail. Alzano Lombardo, 117 vittime, Nembro 207. In tutta la provincia di Bergamo sono 2425. Non esiste un vero e proprio protocollo che potesse prevedere come rispondere a un evento così estremo, ma ci sono delle negligenze e quindi il Corriere racconta appunto cosa è successo e dunque l'inizio di questa inchiesta. La Repubblica, la prima cosa bella, morti al minimo, calo dei ricoverati, non era mai accaduto. Anche in Toscana mascherine obbligatorie, ma gratis. Pio, albergo Trivulzio di Milano, il sottosegretario della salute, dice pronti all'ispezione, l'infermiera lì dentro un incubo. L'Istituto Superiore di Sanità è iniziata la discesa, ora si può cominciare a pensare alla fase 2. Elisabetta, come nel 1940, uniti vinceremo, è il suo messaggio, però il Premier Boris Johnson viene intanto ricoverato per febbre sospetta. Il sole 24 ore, pronto il nuovo piano liquidità alle imprese, calendario fiscale e pubblica amministrazione. Oggi il decreto stop a IVA, ritenute contributi e alla stretta sugli appalti. Garanzia al 100% sopra 800 mila euro in casi limitati. Fraccaro, alleanza stato imprese per difendere le filiere, capitale pubblico a tempo per aziende in crisi. Scuola tutti ammessi e promossi, voti bassi da recuperare nel 2020-2021. Maturità e licenza media light, lezioni online obbligatorie, ma non nelle vacanze pasquali. Il nodo del concorso precari. Giustizia, nuovo stop alle udienze, dopo la crisi sarà ingorgo. Il bonus da 600 euro spetta ad oltre 500 mila professionisti, vale a dire il 56% della forza lavoro. Attacco al lavoro nero scoperti, 356 mila irregolari. È il rapporto degli ispettori. Andiamo in chiusura con la Gazzetta dello Sport. Star in saldo, mercato mai visto, contratti in scadenza e svincolati. La crisi crea euro, occasioni d'oro. Poi taglio, ingaggi, club uniti, via il 10% del totale. Cuore Lautaro vede solo l'Inter e aiuta l'Argentina. Altobelli dice, resta il patto di patto. Milan riparti da Maldini e Ibra, magari tornerò. È quanto dice Pato. Per Pogba la signora invece si fa in tre. Juve, Pjanic, Bernardeschi, Douglas, chi offre di più. Prima di salutarci vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi su questa rete. Si inizia alle 11 con Conto alla rovescia, alle 13 fuori menu, 13.50 Musa TV, alle 14 la diretta con tutti gli aggiornamenti del telegiornale. Alle 16 camminando Molise, alle 17 Punto Verde, alle 19.30 torna in diretta il telegiornale. Alle 21 sarà il momento invece di fuoco incrociato, alle 23 l'ultimo appuntamento con l'informazione. È tutto anche per questa mattina. Grazie per averci scelto, per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie per aver guardato il video.